Ed eccoci arrivati al momento dell'adozione del cuore. Ora, tutte le adozioni che vi chiediamo di fare sono adozioni importanti perché diamo una casa a un randaggino, a un trovatello, a una bestiolina che cerca solo una nuova opportunità. Ma nel momento dell'adozione del cuore vi chiediamo di essere ancora più generosi perché la creaturina che vi presentiamo è una creaturina speciale, diversa dagli altri. È il caso del piccolo Giacomino. Andiamo a conoscerlo. Allora, Giacomino è un cagnolino di due anni. Giacomino è arrivato da noi dopo un bruttissimo incidente. È stato recuperato in strada, su una strada a scorrimento veloce. La macchina che l'aveva investito non si è fermata. Lui è rimasto agonizzante al suolo, la situazione era veramente grave. Per la zampetta di davanti non c'è stato nulla da fare. Purtroppo è dovuta, l'hanno dovuta togliere. È un cane gioioso, giocherellone che corre, salta autonomo, non ha problemi di mobilità attualmente. Riesce a fare tutto da solo perfettamente. È molto giovane e quindi ha ancora tutta la vita davanti per poter trovare una famiglia degna del suo amore. Chiamateci, Gio e Giacomino vi aspettiamo per fare le presentazioni ufficiali. Avete visto, amici, che meraviglia il nostro Giacomino? È o non è un cagnolino speciale? Beh, certo, un po' diverso dagli altri, ma la diversità, l'essere speciali, è anche una grande ricchezza. E Giacomino è molto allegro, molto bello, molto simpatico, anche giovane, per cui potrà essere un grande compagno di vita. Quindi, amici, telefonate subito al rifugio di Lanciano al numero 331-2363-603.